Buongiorno, sono Emanuele Di Nicola. Da quasi due anni mi sono appassionato della blockchain, bitcoin e altre criptovalute. Parliamo dei bitcoin per fare chiarezza. I bitcoin nascono all'interno del mailing list delle cripto anarchici, che sarebbero un gruppo di persone che cercavano di cambiare il mondo. Cercano tuttora di cambiare il mondo, scrivendo codice. Il primo documento del 31 ottobre 2008, che è apparso in una mailing list di questi cripto anarchici. Da parte di Satoshi Nakamoto, uno pseudonimo, una persona che non si è mai voluta far vedere, ha deciso di non esporsi per non far bloccare il progetto. Su questo documento si dava la possibilità di effettuare transazioni senza alcun ente centralizzato come banche e governi. Ho fatto due video che parlano di bitcoin e blockchain, elencati in descrizione sotto a questo video. Il primo blocco, quindi la prima prova, fu fatta il 3 gennaio 2009, con il blocco 0 di Coinbase. Come tutte le innovazioni, nel momento in cui vengono inventate, non esiste il tasto disinventa, ovvero detto in altri termini, le criptovalute sono inarrestabili. Come ha già detto anche Bill Gates, infatti il bitcoin, prima di essere una moneta, è un protocollo, ovvero una lista di istruzioni informatiche che possono essere eseguite da chiunque. Ebbene, è assolutamente impossibile assicurarsi che nessuno le esegua. Pertanto è unstoppable, ovvero inarrestabile. Il resto è storia. Quando una idea geniale viene divulgata al mondo e non si può cancellare, questa innovazione si è sviluppata in maniera tale che nel 2010 un sito internet, Bitcoin Market, ha iniziato a convertirli in dollari. E da lì è iniziata come un valuto di pagamento nelle transazioni. Fondamentalmente non è una valuta perché è qualcosa di più di una semplice valuta. Il bitcoin non è una moneta qualsiasi, ma è la migliore moneta in circolazione per le sue caratteristiche. Sembra una contraddizione, ma il bitcoin porta con sé una mirida di contraddizioni. Partendo dalla sua natura, cosa è e cosa non è? Fondamentalmente è una scrittura di valore digitale inserita nella blockchain, pubblica e trasparente. Stanno circolando sul web in questi giorni una valanga di notizie che non corrispondono a realtà. Ci sono tantissime persone che chiedono che cos'è il bitcoin, a cosa serve, eccetera. Partendo dal presupposto che vengono utilizzati dei web a fini criminali, la maggior parte delle persone si basa su una serie di informazioni errate di bitcoin senza conoscerli. Potrebbe essere considerata come una difesa mentale per cercare di non affrontare un qualche cosa che va a sconvolgere le proprie certezze. Perché immaginare di poter fare una transazione tra individui senza alcun ente centrale, come siamo stati abituati fino a qualche anno fa, obiettivamente sconvolge. Perché questa innovazione va a scuotere gli assiomi sul quale abbiamo costruito la nostra società. Non è una critica, è solo che fino al 2010 non era possibile fare diversamente. Il bitcoin fa vedere che è possibile fare diversamente. Dopo il bitcoin vi sono state una meridia di altre prove, altre innovazioni, che sono tutte le altre criptovalute, chiamate altcoin, che significa alternative to bitcoin, in alternativa al bitcoin. Tutto ciò che non è bitcoin viene denominato altcoin. Fin dal 2015 la Banca d'Italia le ha dichiarate perfettamente legali, sono perfettamente utilizzabili all'interno delle transazioni. Chiunque può pagare può transare in azioni volontarie. Tutta una serie di innovazioni possono portare una serie di personaggi e cercare di approfittarsi della scarsa conoscenza dei soggetti. È avvenuto in passato con alcune monete digitali create da aziende con scopi troffaldini. Queste aziende sono state sanzionate l'8 agosto dal garante della concorrenza nel mercato. La Consob ha emesso una sospensiva nei confronti di un sito internet che promuoveva questa criptovaluta, che di criptovaluta aveva ben poco. Questo comporta la necessità per chiunque si voglia avvicinare prima a conoscere. E a non fidarsi del primo che viene a proporre investimenti fantasmagorici. Perché le innovazioni si circondano sempre di personaggi senza scrupoli, a cercare di approfittarsi della non conoscenza e della credulità della persona. Di fidare da chi vuole vendere qualsiasi schema sulle criptovalute. Il bitcoin cerca di portare le persone ai livelli massimi permettendo all'individuo di essere la propria stessa banca. Come dicono in America trustless, ovvero senza dover dare fiducia ad un ente ma facendo l'operazione autonomamente. Ad esempio, se io oggi volessi sostenere un'associazione benefica che non è riconosciuta ufficialmente, l'unico sistema che potrei avere è fare donazioni in bitcoin o altre criptovalute. Perché le criptovalute sono resistenti alla censura. Nessuno mi può censurare una transazione su bitcoin, nessuno può impedirmi una transazione in bitcoin. Il bitcoin mi permette di entrare nel sistema, in inglese permissionless, ovvero senza alcun permesso. È un sistema aperto, è un sistema che garantisce un livello di anonimato, quindi una difesa dei dati personali per default piuttosto che per norma. Da una parte ha tutta questa serie di vantaggi e dall'altra parte ha una serie di svantaggi, di rischi. Come qualunque altra valuta decentralizzata possa avere. Perché è una moneta che si basa sul consenso di persona a persona? È una valuta che si basa sul consenso fino a che ha consenso, fino a che ha un'accettazione la moneta vale. Nel momento in cui la valuta perde questa accettazione, perde il valore. Come succede anche per l'euro del resto, se da domani le persone non le accettano più, perde il valore. Quindi la banconota che noi abbiamo ha un valore perché noi glielo diamo. Questo è il rischio di cui uno deve tener conto. La facilità di utilizzo è abbastanza ostica, perché occorre studiare un po' il meccanismo, come aprire un account su una piattaforma di scambio per convertire gli euro in bitcoin o altre criptomonete. Sono richieste delle conoscenze tecniche minime. Per sapere come fare, contattami. Sarò lieto di spiegartelo. In descrizione trovi il contatto ed il link alla piattaforma Coinbase. Successivamente si installa un portafoglio sul proprio computer dove ci sono le chiavi private per accedere alle criptomonete. Le attività commerciali che si stanno avvicinando a questo mondo cercano di andare verso una maggiore friuribilità dell'utente finale. Le aziende possono accettare bitcoin? Sì, le aziende possono accettarli in corrispettivo dell'accessione dei prestazioni dei beni o dei servizi. Vi sono dei fornitori di servizi che agevolano a tal punto che per cui accetta bitcoin ma riceve euro grazie a un sistema automatico che li converte all'istante attraverso carte di credito che contengono bitcoin nel loro punto ma che li trasforma in euro nel momento della transazione. Altra domanda che viene fatta spesso. Le monete digitali vengono utilizzate per il riciclaggio? Le monete digitali hanno una caratteristica. Tutte le transazioni sono pubbliche, liberamente visibili sulla blockchain. Qualsiasi persona avendo l'indirizzo bitcoin di una transazione può controllare l'operazione. È una pessima idea compiere un reato utilizzando le monete digitali perché si lascia una traccia eterna, liberamente accessibile e che fa prova in blockchain. Quindi utilizzarle per riciclare è possibile come con il denaro portante. È possibile ma è una pessima idea. Non sono né utili né funzionali ad operazioni di riciclaggio. Se ti è piaciuto questo video ti invito a mettere un mi piace, un like e un commento se ti va. Grazie. Se vuoi condividerlo mi fa piacere. Un abbraccio da Emanuele. Ciao!